Grazie a tutti. Che cos'è, ne? Il Kid Viposca! Passioni o offerte lavorative? Sicuramente in base ai miei interessi, in principal modo il corpo umano, capire come funziona e quindi ovviamente l'università di medicina è l'università migliore per capire come funziona il corpo umano, studiare tutte le malattie e poi ovviamente anche l'offerta lavorativa futura è molto buona. C'è sempre bisogno di medici. Sapevi fin dall'inizio del liceo cosa avresti fatto dopo? Assolutamente no, pensavo anzi addirittura prima di iniziare il liceo di affrontare un percorso molto più umanistico, letterario, di fare l'insegnante invece poi nel corso degli anni ho capito che il mio futuro era da un'altra parte. Qual è la domanda di richiesta lavorativa della tua facoltà? È molto buona, ovvio che dipende sempre da quanti studenti sono iscritti, quanti poi passano il test di specializzazione e quanti medici effettivamente poi c'è bisogno e questo cambia molto anche in base alla specializzazione perché dopo i sei anni di medicina un medico può diventare cardiologo, medico di base, ginecologo e quindi questo cambia molto in base alla specialità e alla regione e all'ospedale. Quali sono le professioni che puoi svolgere dopo e quali sono le più gettonate, le più scelte? Allora le più scelte io penso che siano le specializzazioni cliniche, in particolar modo il ginecologo e il dermatologo anche per una questione di stipendio, però in realtà tutte le specialità da appunto pediatria alla chirurgia, tutte le professioni mediche. Quanto è grande il cambiamento tra liceo e università e dove ti sei trovata meglio? È molto grande infatti, mentre al liceo sei tu con la tua classe, con i professori, li vedi tutti i giorni, si può considerare una piccola famiglia, invece l'università, parlo per me a Parma, siamo in 250, ad oggi non conosco ancora tutti i miei compagni di corso e il professore viene mantenuto solo per un semestre. Quindi non c'è quella confidenza con il professore che viene mantenuto invece per cinque anni durante il liceo e ovviamente poi cambia anche il metodo di esami. Non ci sono più le verifiche magari tutti i giorni, però su 20, 30, 50 pagine, 100 al massimo, ma ci sono esami molto più grandi, da 500, 1000 pagine anche, però la scadenza, quindi la data in cui ogni persona può fare l'esame, la sceglie personalmente lo studente, non viene dettata dal professore e quindi sia molto più autonomi, bisogna sapersi organizzare. Per quanto riguarda l'ambiente appunto proprio delle amicizie, secondo me è più bello il liceo, perché crea maggior confidenza, maggior familiarità, invece l'università è un percorso un po' più in cui il singolo studente è per sé, quindi non si viene a creare quella classe, quella appunto familiarità che c'è in una classe di liceo. E come hai vissuto il passaggio da liceo ad università? Ma allora, bene, mi sono adattata, ho trovato il mio gruppo di amici, so organizzarmi, quindi l'importante è l'organizzazione, studiare tutti i giorni e mi sono trovata bene, sì. E come ti ha cambiato l'università? Cioè, ha cambiato in qualche modo il tuo modo di ragionare, il tuo modo di porti, oppure è più o meno rimasto uguale a quello del liceo? Sicuramente mi ha fatto crescere perché ci si rapporta con professori, insegnanti che, insomma, di un certo spessore, di un certo livello e la prima volta che si fa un esame, soprattutto orale, con un professore universitario è molto diverso da fare la verifica o un'interrogazione con un prof del liceo che magari conosci da anni. E secondo te come fa una persona a capire di aver sbagliato questa scelta, cioè di aver sbagliato l'università? Quando ogni giorno ti pesa quello che fai, ti pesa andare a lezione e ti pesa studiare. Invece, quando comunque ti appassioni a qualcosa, è vero, sì, è pesante studiare, però sei interessato a quello che studi e quindi lo studio non viene visto solo come qualcosa di negativo o pesante, ma anche qualcosa che ti arricchisce. E quindi sei interessato a quello che studi. Se non sei interessato, c'è qualcosa che non va. E come ti sei preparata per il test d'ingresso, anche se forse adesso ormai non c'è più il test di medicina? Allora, lo conosco molto bene perché l'ho fatto due volte, non sono passata al primo tentativo. La prima volta ho deciso di prepararmi con Test Buster, ho fatto una settimana di teoria, in cui quindi mi venivano spiegate tutte le materie, e una settimana di esercizi e quiz e test. Nonostante questo, e nonostante avessi studiato molto, forse il venire da un liceo classico mi aveva fatto avere una mentalità un po' troppo umanistica e non molto scientifica. E quindi nonostante comunque non avessi fatto un punteggio basso, non sono riuscita ad entrare e il giorno del test soprattutto mi sono fatta prendere dall'ansia. E due crocette cambiano la vita. Invece il secondo anno, io che ho riprovato il test, mi sono iscritta al corso di Biotecnologie, quindi ho frequentato un anno Biotecnologia Pavia. E fare quest'università, quindi affrontare esami come Biologia, Chimica, Matematica, Fisica, mi ha aiutato tantissimo e infatti poi sono passata. E quanto tempo dedichi allo studio? Riesci ad avere abbastanza tempo libero? E se riesci a descriverci la tua giornata tipo da studente universitario? Sì, sicuramente si riesce ad avere del tempo libero, soprattutto quando non si è in sessione ma si seguono ancora le lezioni. Tanto, comunque si dedica tanto tempo allo studio, però se ci si organizza si riesce a fare tranquillamente tutto. Ovvio, magari non si può fare uno sport a livello agonistico e tutti i giorni avere tempo per fare i propri hobby, però se ci si organizza si fa tutto. Va bene. E solitamente come ti organizzi per la preparazione di un esame? Allora, dipende da quanto è grande l'esame. Io prima, appunto, seguo sicuramente tutte le lezioni, prendo appunti e cerco giorno per giorno di stare al passo con quello che viene spiegato, però non si riesce mai, si sa, non si riesce mai a stare al passo. Quindi io leggo sempre tutto il libro, tutte le dispense che ho per studiare, sottolineo, faccio schemi e poi ripeto, soprattutto se l'esame è orale. E quali sono state le difficoltà che magari stai affrontando adesso nel tuo percorso oppure se ne hai avuto almeno all'inizio? Sicuramente cambia la mole di studio e cambia la grandezza degli esami. Si passa appunto dal liceo in cui magari una verifica grande era considerata una verifica di 100 pagine, 150 pagine e adesso ad esempio mi devo trovare un esame come fisiologia che sono 20 CFU e sono letteralmente mille pagine da studiare con nomi specifici e quindi ovvio che si è spaventati, è molto difficile e pensi che la memoria non riesca a farcela, però ci si allena e ce la si fa. Però questo secondo me è il vero cambiamento, proprio la grandezza degli esami. E come ultimissima domanda, scegliresti di nuovo questa università oppure cambieresti? Assolutamente, sceglierei ancora quest'università perché mi interessa proprio, sento che quando studio sono felice di quello che sto studiando e sono appassionata. Va bene, grazie mille per la tua testimonianza.